E' più leggero di un libro tascabile e più sottile di una rivista. Lo puoi portare ovunque tu vada. Kindle ha il più avanzato schermo inchiostro elettronico. Si legge come un libro di carta, senza riflessi, neanche alla luce diretta del sole. Niente ansia da batteria. Una carica completa dura fino a un mese. Kindle può contenere fino a 1.400 libri, che vengono archiviati automaticamente e gratuitamente online su Amazon.it. Così non rischi di perdere la tua libreria. Scegli fra centinaia di migliaia di libri in italiano, inglese e altre lingue straniere. Scopri best-seller, novità del momento e classici gratuiti. Leggi gratuitamente un estratto del libro, consulta le recensioni di altri utenti e scarica libri in 60 secondi con il Wi-Fi integrato. Piccolo, leggero, facile da usare. Il nuovo Kindle da Amazon.